per inviare un documento ho la possibilità di utilizzare il servizio messo a disposizione direttamente sul sito cliccando praticamente su upload documenti qui posso mediante il pulsante sfoglia selezionare il mio documento indico un tipo di documento il documento appunto che devo inviare seleziono il formato che può essere zip o text file e poi clicco sul pulsante upload a questo punto il documento verrà inviato un'altra possibilità è quello di utilizzare il client a metà lo vedi ovvero un programma creato per la metà la stessa in cui una volta che l'ho installato entro all'interno del programma vado nella cartella vado nella cartella upload in questo caso presentiamo l'esempio di invio di un ordine entro all'interno della cartella orders inserisco il mio file nella cartella da trasmettere dopodiché tornando nella cartella principale del client web e andando in script andando in script clicco su orders due volte e il client avvia la procedura di spedizione del mio documento per favore